orientamento di una prima partiamo con un esempio molto semplice finiamo con D per x, y, y partemente ad equate x uguale più y uguale e minore o uguale di 1 d'accordo? quindi c'è il centro d'origine e raggio 1 finiamo con fine e a x uguale a parte nera a b assorta x uguale a c d'accordo? quindi consideriamo questa superficie questa è che noi abbiamo il sostegno del grafico il grafico della funzione f, x, y uguale a città costante d'accordo? questo è il sostegno di questa superficie deve essere la riconferenza di centro d'origine e la giurale della flata e la deportata altizza c d'accordo? calcoliamoci il vettore il vettore è ovario chi era la derivata di phi rispetto a x? cosa significa? u, 0 rato di phi rispetto a x? cosa significa? 0 rato di phi rispetto a x rato di phi rispetto a x lo sottengo cancello questo 0 cancello questo cancello questo non è 0 cancello questo non è 0 d'accordo? e questo è già normalizzato questo è già questo è un vettore normale alla superficie leggele e questa è una cosa 1 quindi è percorso 0, 0, 1 quindi rato di punto questo è il versore tangente punto verso l'altro d'accordo? cos'è questa applicazione? g tra le t a x e si usa h tende a d assoluto x di u y con x a partire da di lo stagliato x con l'uso questa è un'abiezione della radizia di classe c1 calcoliamoci la matrice di acco bianca calcoliamo la matrice j di g punto x di g la derivata della prima componente rispetto a x è 0 la derivata della prima componente rispetto a y è 1 la derivata della seconda componente rispetto a x è 1 la derivata della seconda componente rispetto a y è 0 e se vi calco il caso è terminato di lungo allora vi considero adesso questa applicazione qui abbiamo la psi che a x y a partire a d assoluto phi phi di g di x y cosa fai qua ragazzi? chiego g di x y chi è? y x qui non è altro che più x c d'accordo? questa curva è equivalente a phi perché l'ho come ottenuta attraverso un cambiamento ammissibile di parametro ammissibile di parametro d'accordo? è positivo è sempre positivo sempre negativo se è positivo le due curve hanno lo stesso il versore se è negativo hanno il versore il versore c'è comunque un opposto dell'altro normale in questo caso quindi chi sarà? 0 0 1 il versore sarà questo qui il versore d'accordo? sarà 0 0 secondo caso il calcolo esplicito l'arrivata di phi di phi rispetto a x cosa dire? rispetto a y viene 0 1 0 l'arrivata di phi rispetto a y cosa dire? 1 0 0 0 l'arrivata di phi rispetto a y vettore l'arrivata di phi rispetto a y è uguale cancella prima cosa viene 0 cancella la seconda viene 0 meno 1 la cosa è uguale rispetto a x rispetto a x viene 0 meno 1 ah, meno 1 si, ci troviamo è giusto infatti viene meno 1 è giusto d'accordo? quindi il versore normale è questo punto quindi ragazzi abbiamo due curve vedete? queste due superfici sono equivalenti nel primo caso il versore normale punta verso l'altro verso il basso ragazzi finalmente questo fatto allora cosa? immaginate voi state su questa superficie disegnate per esempio una curva su questa superficie disegnate una curva qui sopra d'accordo? questa cosa è così disegnate una curva e poi fate fuori persone normali lungo questa curva quando ritornate al punto di partenza il versore normale è lo stesso se siete partiti se siete partiti con la curva a fi d'accordo? il versore normale è verso l'alto alla fine ritornate con il versore verso l'alto se invece state con la curva a fi qui quindi il versore verso il basso voi fate un giro ritornate al punto di partenza il versore verso il basso ma questo fatto succede sempre guardate prendete prendete la scelta di carta guardate invece di far compasciare i lati così ruotate un lato e fate compasciare così vedete il naso non è così come si attiene questa superficie? definite per esempio x y z considerate la circonferenza del piano xy di centro origine e raggio 2 d'accordo? e poi considerate il segmento del piano xz e del modulo z è minore di 2 in questo punto del punto 1 d'accordo? e il punto 2 è tale che il modulo z è minore di 2 fate ruotare questo segmento intorno alla circonferenza ma man mano che questo segmento ruota intorno alla circonferenza ruota anche su se stesso e dopo che ha ruotato intorno alla circonferenza in un angolo alfa su se stesso ha ruotato in un angolo alfa-messi in modo tale quando arrivate qui si sia ripaltato d'accordo? questa è la superficie che ottene docendo il ruotare questo segmento intorno a questa circonferenza è proprio il naso di mezzo ragazzi guardate questo questo è il vostro naso di mezzo prendete un punto sulla superficie d'accordo? fate ruotare il versore normale ritornando a quel punto che succede? che il versore normale ha cambiato verso bene fate lo succede in questi due in questi esempi d'accordo? ragazzi perché in questo caso si ha questo fenomeno e in questi due casi non si ha questo fenomeno perché moralmente in questo caso si può venire e voi potete prolungare sia in questo caso che in quello potete prolungare il versore normale perché il versore normale lo è definito ragazzi è definito sull'immagine dell'interno di D ricordate non abbiamo definito il versore normale avete la superficie definita in D prendete l'interno fate l'immagine dell'interno da sopra è definito non su tutto il sostegno del versore normale è definito soltanto sulla parte del sostegno che è l'immagine dell'interno d'accordo? ragazzi in questi casi voi potete prolungare il versore normale con continuità su tutto S in questi casi qua invece in questo caso qua questo fenomeno non può avvenire però vediamo questa definizione sia di A di B in R3 una superficie regolare poniamo S è uguale FI di D D S è uguale FI dell'interno di D FI si dice orientabile se esiste un campo continuo F' definito FI è uguale FI di D per ogni P appartenente all'interno di S F di P è uguale FI N N di P è il inversore normale a P e FI FI di D una superficie regolare poniamo S è uguale FI di D ed S è uguale FI dell'interno di D D'accordo? Prendiamo che FI è orientabile se voi potete questo scendo qua se potete prolungare il campo di versioni normali da S0 a tutto S con continuità e si vedrà se questo fatto non è possibile si può scrivere proprio l'equazione della superficie e verificare se questo fatto non avviene D'accordo? Poi questa definizione è difficile altra definizione sia FI di D che una FI regolare orientabile e notiamo un po' questo signore ragazzi insieme L superficie SI di T N e T equivalenti a FI cosa vuol dire due superfici sono equivalenti? cosa vuol dire due superfici sono equivalenti? che esiste un'applicazione G che va da D in T esiste una piezione G che va da D in PSI raddisco dalla D in T invece di classe C1 tale che con il determinante della maniscia bianca diverso da 0 è tale che FI di UB lo posso scrivere come PSI di G di UB lo scrivo questo fatto cioè esiste l'applicazione G esiste esiste una piezione G che ha UB appartenente a D I UB appartenente G di classe C1 con determinante della maniscia g è punto UB diverso da 0 per ogni UB appartenente della maniscia in generale D tale che FI UB è uguale a PSI di G UB per ogni Q UB appartenente camera del parentese questo deve ricordarci cosa è cosa vuol dire che FI e PSI sono equivalenti quindi con questo simbolo stiamo denotando la famiglia di tutte le superfici regolari che sono così correlate con FI questa famiglia la posso spaccare in due sottofamiglie sottofamiglie tutti i per in quanto in posso introdurre in questa famiglia una nuova relazione di equivalenza quale precisamente? dirò che due elementi di questa famiglia sono equivalenti se il determinante della malicella copiana abbiamo visto che il determinante della malicella copiana non è sempre positivo, è sempre negativo vediamo se sono equivalenti se il determinante della malicella copiana è sempre maggiore di 0 d'accordo? allora ragazzi, facendo così questa famiglia si spacca ovviamente due famiglie è un po' rosa ragazzi, lo dico in questo modo perché voi non sapete non conoscete l'asse equivalenza non è mai sentito parla di l'asse equivalenza vabbè, allora lo dico in questo modo un po' più semplice la famiglia fi fi decompone chiamiamo più uno e non è così questi due insibili uno e più che provate a gol questi insibili la lolite sezione è uguale al mutuo saliti se ne fate un'unione gli ottenete gli ottenete tutta la famiglia di partenza una cosa importante se prendete due qualsiasi elementi della prima famiglia prendete due elementi questa famiglia il determinante della malicella copiana è positiva se ne due elementi di questa famiglia questa è la patria quindi quindi ha un cambiamento ammissibile di parametri determinante la malicella copiana è positiva prendete due elementi di questa famiglia determinante la malicella copiana è positiva se invece prendete un elemento di questa famiglia e uno di questa altra famiglia determinante della malicella copiana è migraia d'accordo? cioè due elementi di questa famiglia la malicella copiana è positiva idem due elementi di questa famiglia però se prendete una di questa famiglia è una della seconda determinante la malicella è negativa ragazzi ognuno di questi due insieme lo chiamiamo orientamento ognuno di questi due si chiama orientamento per capirci ritornando al nostro esempio precedente abbiamo la nostra superficie abbiamo phi e psi sono due curve sono due superfici equivalenti perché abbiamo trovato un cambiamento ammissibile di parametri d'accordo? però come il determinante della malicella copiana è negativo quindi phi e psi anche se essendo equivalenti però sono ripartiti in due insiemi diversi d'accordo? e infatti il primo caso vedete inversione normale il punto verso l'alto il secondo caso il punto verso il basso allora tutte le altre superfici equivalenti come saranno fatte? le superfici equivalenti che hanno il versore a queste che hanno il versore normale che punta verso l'alto che stanno nella famiglia di phi le superfici equivalenti a queste che hanno il versore normale che il punto verso il basso stanno nella famiglia di psi d'accordo? d'accordo? ragazzi con l'unione di queste due famiglie le chiamiamo l'orientamento cioè l'infinito l'orientamento che cosa vi sta dicendo? come è fatto? come sta il versore normale? che va in questo caso è stato un punto verso il basso con la definizione di superficie con bordo vedete ragazzi nel cilindro abbiamo due orientamenti per la parte abbiamo tutte le sguerficie che hanno il versore che punta verso l'esterno dall'altra parte abbiamo tutte le superficie che hanno il versore che punta verso l'interno io devo fare la sfetta per i due orientamenti definizione di superficie concordo una superficie regolare una superficie regolare con di dominio connesso regolare dove poi ragazzi con dominio connesso regolare con regolare questo intendiamo quello che abbiamo definito qualche settimana fa quando abbiamo introdotto i dominio regolari del piano ricordate quindi di oltre al sendomino connesso in più è regolare fi si dice superficie con il mondo se esiste un'applicazione si di A in R3 con A aperto e contende di contenuto in A di classe circa di rispetto a di si rispetto a D e in D la relata di si rispetto a 1 vettore al relato di si rispetto a V che è diversa da due numeri per ogni 2B appartenente a D e C UB è uguale a P UB per ogni 2B appartenente copiato per ogni 2B ragazzi cosa è la superficie composta? ritorniamo alla definizione di superficie regolare che cos'è una superficie regolare? che cos'è una superficie regolare? è un'applicazione F definita in un dominio connesso del piano D a valore di R3 deve essere di classe C1 poi deve essere iniettiva 2 nell'interno di D non fino alla frontiera di D o soltanto nell'interno di D e inoltre deve essere all'area di F rispetto a U il vettore dell'area di F rispetto a U deve essere diverso dal vettore nullo dove? nei punti interni a D qua stiamo chiedendo ragazzi che in effetti F è la restrizione di qualcosa definita sull'insieme più grande stiamo dicendo che si definita sull'insieme più grande di D su un aperto contenente D ragazzi D è un insieme evitato perché D è un dominio regolare quindi è un insieme evitato in caso poi esiste un insieme aperto A che contiene D d'accordo? tale che e dici sull'applicazione si definita su A tale che si è di classe C1 su A e inoltre E è iniettiva e verifica questa proprietà su tutti i punti di D e sui punti di D Fi è uguale a Psi qui stiamo richiedendo monamente che che Fi verifica questa proprietà fino alla frontiera fino su tutto su tutto D d'accordo? t ragazzi ovviamente una superficie con bordo è una superficie orientabile che cos'è il bordo che cos'è il bordo della superficie in tal caso si definisce il bordo della superficie e si denota e si denota con questo simbolo l'insieme l'insieme Fi della frontiera prendete la frontiera di D fate l'immagine di R3 questo si chiama il bordo della superficie la superficie sarebbe con delta no con s perché noi con s abbiamo il sostegno della superficie si denota con questo simbolo d'accordo? nei nostri esempi ragazzi chi è il bordo? questa è una superficie con bordo questa superficie sia la superficie Fi sia la superficie del secondo bordo? si perché per esempio io posso considerare la funzione che a xy questa è xy appartenere associo xy d'accordo? ma io posso considerare l'applicazione che è xy appartenere associo a R4 associo xy la possibilità su tutto R4 per esempio questa è la classe C1 come si chiama? resta iniettiva qua sopra verifica questa proprietà la verifica su tutto R4 è ristretta a dividere la nostra applicazione d'accordo? quindi ecco e chi è il bordo? devo prendere la frontiera di D la frontiera di D che è la circonferenza e farne l'immagine quindi ottengo la frontiera di questo cerchio questo è il bordo d'accordo? questo è il bordo d'accordo? questo è il bordo in questo caso in questo caso adesso abbiamo introdurre un'altra nozione orientamento del mondo perchè dobbiamo fare questa l'orientamento avendo la superficie con bordo dobbiamo definire l'orientamento perchè interviene in alcuni teori come abbiamo visto nei formuli di Gauss Green nel piano interviene l'orientamento della frontiera del 2000 ricordate? così per alcuni teori che vedremo interviene l'orientamento del bordo ragazzi diremo che il bordo lo dico prima parlo e poi lo scriviamo cosa vuol dire che il bordo è orientato positivamente d è un demigra regolare del piatto d'accordo? quindi la sua frontiera è una curva regolare quindi voi cosa fate? prima cosa parametrizzate la frontiera di d positivamente abbiamo visto che si parametrizza cosa vuol dire? parametrizzare positivamente la frontiera di d d'accordo? deve essere parametrizzata deve scegliere vedrà presentarla con una con una curva fi tale che il versore normale deve puntare verso l'esterno del 2000 d'accordo? la prima cosa da fare è parametrizzare la frontiera di d positivamente dopodiché fate una composizione di questa parametrizzazione con la fila facendo la composizione ottenete ottenete una parametrizzazione del bordo di s questa parametrizzazione se usate questa parametrizzazione potete dire che è stata orientata una frontiera positivamente quindi orientata la possibilità che è stata facendo sulla scelta della sua parametrizzazione lo scriviamo e facciamo dei tempi in quel caso d'accordo? un isn't che è yards dec slightly fì fì g d g egy 屈 una che è ância aggiungente attraggio non estomai sia gamma a P appartenente a B associa gamma a P appartenente alla frontiera di B una una parametrizzazione della frontiera di B che orienta si affia una parametrizzazione positiva della frontiera di B che qua ci siamo guarda cosa vuol dire la parametrizzazione positiva state state parametrizzando la frontiera di D con una curva regolare a tratti con una curva ho più curve regolari a tratti tale che in ogni punto escluso il numero di punti a P inversore normale punti verso l'esterno d'accordo? riparate a casa della frontiera circolare fuori verso l'esterno se state sulla frontiera interna deve andare verso l'interno perché deve andare all'esterno del dominio facciamo facciamo parametrizzando il bordo di S con la curva di gamma di T appartenente a o di S si dice invertiamo ci ha un'altra? scusa ragazzi si dice che la frontiera di fondo di S è correntato possibilmente se viene se viene parametrizzato dalla curva che a T appartenente alla P associa F di gamma di T appartenente al bordo di S in tal caso il bordo di S si denota con più il bordo di S per ricordare che lo state parametrizzando in questo modo particolare quindi ragazzi due superfici non vedete è chiaro cosa facciamo ragazzi piacere cosa B superficie con B vedendo faccio la scelta scelgo una parametrizzazione della frontiera di D che parametrizi la frontiera di D positivamente poi faccio la composizione di F con questa parametrizzazione gamma quando uso questa parametrizzazione dico che il bordo è orientato positivamente ragazzi il bordo c'è due superfici che qui vale il bordo è sempre lo stesso il sostegno è sempre lo stesso il bordo è sempre lo stesso però dire che è orientato basile dipende dalla parametrizzazione che è stato usando facciamo qualche esempio diamo un esempio qua ragazzi la vostra figura qui è che a X è appartenente da D associa X Y è un cipro d'accordo? il vostro sostegno è chi è? è questo cipro portato all'ottenza cipro d'accordo? il suo bordo è questa circonferenza d'accordo? voglio orientare questo bordo possibilmente cosa devo fare? devo prima cosa prendere la circonferenza in base di D prendere la sua frontiera chi è la sua frontiera? la frontiera di D che è la frontiera di D D D D appartenente e qui va? di tali chi è il bordo di S? x più y z vale più questo quadro più x sono un quadro è uguale a un quadro più z un quadro più un quadro questo è il bordo del sostegno S adesso voglio parametrizzarlo voglio orientarlo possibilmente cosa faccio? mi considero la frontiera di D chi è la frontiera di D? x di y appartenente a 2 e 4 tale che 1 x o 4 più 1 x o 4 e poi è 1 e questo è la frontiera di D d'accordo? devo parametrizzare la frontiera in modo da orientarla positivamente cosa scegliamo come parametrizzazione? per esempio coseno di T coseno di T qui gamma a T appartenente a C coseno di T coseno di T coseno di T d'accordo? sto orientando positivamente la frontiera di T adesso faccio la composizione di F con gamma l'applicazione che a T appartenente a 0 2 di greco associa F di gamma di T quindi associa coseno di T coseno di T c allora se io parametrizzo la frontiera di S con questa applicazione con questa curva d'accordo? allora posso dire che la frontiera di S è è orientata positivamente e la denoto con la frontiera di S se invece prendete questa per esempio se invece partire da questa cosa così se invece prendete coseno di T seno di T coseno di 2T coseno di 2T coseno di 2P greco meno T coseno di 2P greco meno T così cosa faceva? riorienta la frontiera di T non ve la riorienta positivamente si sta muovendo faceva la composizione aveva avuto qua che a T parte è una zona di 2P greco meno T seno di 2P greco meno T 5 questa è una parametrizzazione la frontiera d'accordo? è una parametrizzazione però non mi dà l'orientazione positiva ecco? vediamo quest'altro caso ragazzi quindi ragazzi vedete qua come sto muovendo questo muovendo è il senso di 2P vediamo in questo esempio qui ragazzi S è sempre la stessa in questo caso S è sempre insieme x, y, z a tali che x uguale pi, y uguale 1 e 1 e z uguale 5 no scusate S la famiglia S S è minore o uguale x uguale minore o uguale di 1S la famiglia di S è sempre la stessa anche S ovviamente la famiglia di S è sempre la stessa d'accordo? orienti A cosa vuol dire orientare positivamente? devo considerare una parametrizzazione positiva della frontiera di D D è sempre lo stesso quindi come parametrizzazione positiva mi prendo questa qui d'accordo? la frontiera di D associa cos'è di T cos'è di T appartenendo la frontiera di D poi si mi parametriza positivamente la frontiera di D mi faccio la composta d'accordo? faccio la frontiera di D appartenendo a 0,2, Y associa C di gamma di T d'accordo? vedete cosa devo fare ragazzi? una affinazione sarà un B ah, Ups che devo mettere? non faccio la composta ma si è di T cos'è di T che ottengo? cos'è di T questa se usate questa rappresentazione si questa è l'orientamento positivo quindi cosa sta facendo ragazzi? sta ruotando il senso orario il senso il senso orario qua su sta ruotando il senso quindi ragazzi dire parlare di orientamento positivo dipende dalla parametrizzazione alla superficie capite? quindi sono due curve equivalenti sono due curve equivalenti non sono nella stessa sono due orientamenti diversi d'accordo? con questo se usate questa se avete questa rappresentazione questa è l'orientamento positivo d'accordo? quindi questo è importante l'orientamento dipende dalla parametrizzazione perché abbiamo fatto l'orientamento del bordo di una superficie cosa non c'è tutto questo ragazzi? non c'è l'orientamento non c'è l'orientamento non c'è l'orientamento non c'è l'orientamento non c'è non c'è l'orientamento 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 una superficie una superficie convolta ossia s l'orientamento di A in R3 un campo l'orientamento di vettoriale un campo vettoriale di classe C1 la dove A è un aperto di R3 con S uguale quindi D e A allora l'integrale sulla frontiera di S del rotore di E starare la normale indesibile qua l'integrale sul bord della frontiera di S fa l'integrale su S fa l'integrale su S l'interrotore di E è uguale l'integrale sulla frontiera di di S GF canale GF in S dove GF di vessore tangente tangente a borlo relativo a un'orientazione positiva del borlo di 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 rilo crmane te Grazie. Quindi cosa abbiamo? Fi è una superficie comoda. F è un campo vettoriale, un'applicazione definita in un aperto A di R3 e ha valori in R3, di classe C1, dove ha un aperto che contiene il sostegno della superficie. D'accordo? Ora voglio calcolare l'integrale questa è l'integrale superficiale, l'integrale sulla superficie del rotore di F scalare il versore normale l'universore normale alla superficie F questo è il coso uguale, questa è l'integrale di superficie trasformata in integrale che è la curva? La curva è il bordo della superficie D'accordo? questa è F scalare T T è il versore tangente al bordo, ma voi sapete che il versore tangente dipende dalla parametrizazione che avete scelto dovete dovete parametrizzare la frontiera di S positivamente e poi prendete il versore tangente d'accordo? quindi questo è il versore tangente relativo alla parametrizazione positiva del bordo di S qua interviene la parametrizazione da bene? no questa come so se non dimostreremo proprio rapidamente faremo degli esercizi chiaro a tutti? ciao ciao ragazzi sono le due e venti grazie ci siamo un po' prima se ci arrivate allora sia T inclusi R3 indominio indominio regolare di R3 d'accordo? d'accordo? e dentro di di N3 il campo vettoriale di classe C1 allora l'integrale triplo su C per l'agenza di E di Y del C1 all'integrale sulla frontiera di C2 di F scalare nè indiscibile u nè e di persone normale esterno a la frontiera di C2 per e di ragazzi martedì iniziamo l'analisi complessa progetto di pensione di esercizio tutte queste cose sulle superfici per sembrare sa ancora come dice un po' di esercizio allora, te la dalle emergenze sia t inclusi nel rete 3 in dominio regolare ed f di t nel rete 3 un campo vettoriale di classe c1 di t in applicazione della rete di classe c1 allora, l'integrale è triplo su t della divergenza, che è la divergenza di f? f ha tre componenti f1, f2, f2 la divergenza è chiave la radia di f1 rispetto a x la radia di f2 rispetto a y la radia di f2 rispetto a y la radia di f2 rispetto a z questa è uguale all'integrale di volume questa è uguale all'integrale superficiale sulla frontiera di t di f è scalare la normale alla superficie alla frontiera che è tutta verso l'esterno non è vero non è vero d'accordo? dimostriamo se vedere che c'è l'idea e prego la nostra azione grazie bene ragazzi il teorema della divergenza collega l'integrale di volume con l'integrale di superficie mentre la forma di Stokes collega l'integrale di superficie con l'integrale di volume differenzia ragazzi dimostriamo questa teorema in un caso molto semplice supponiamo di stare il vostro dominio che sia un parallelepipedo che è normale rispetto al piano a tutti e tre i piatti quindi mostri del minimo è fatto quindi vediamo Grazie. A B per C D per H t. In un caso molto semplice. Indichiamo A B per C D, indichiamo D. Per cosa devo fare ragazzi? Devo calcolare. l'integrale di indice di T della divergenza di F di X di Y. Questo è l'esplicitale di indice di T della elevata di F1 di Fx. Ragazzi, il campo F ha tre componenti. F2, F2. F2. La data F1 rispetto a X di X di Y 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 di Y. E di Y 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 questo termine spogliate i dati in modo da l'arte l'integrazione di l'elevato di f3 rispetto a z adesso uso le formule di riduzione vedendo il mio dominio t come dominio normale rispetto al piatto quindi questa cosa diventa l'integrale dunque su di l'integrale tra h e k è arrivata a g sempre di z x x di z di z di x di y d'accordo? rinnovate? questo posso accogliere questo integrale questo è uguale all'integrale qui questo integrando qui f3 x 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 d'accordo? lasciamo stare da più i termini per adesso andiamo a fare queste integrali ecco le altre l'integrale su una puntina di T che è il cavallo all'estremo ragazzi la procedura che è fatta dalle facce del cubo quante ne sono? 6 allora indichiamo questa la indichiamo con sigma 1 questa di sotto sigma 2 questo di destra con 6 questo di sinistra con sigma 3 questo di destra con sigma 4 questo davanti sigma 5 quella di dietro sigma 6 e qua 2 3 4 quindi questa integrale si spezza come se il sommatore se l'integrale su sigma i di S 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 d'accordo? si mi piace considerare gli integrali gli integrali sulla faccia sigma 1 e sulla faccia sigma 2 su questa di sotto e quella di sotto la faccia la faccia di sotto e la faccia di sotto disattimento 7 ora ragazzi questo è il prodotto scalare sulla faccia su sigma 1 chi ha il versore normale esterno? è ha componente 0, 0, direi 1 quindi la faccia di prodotto scalare di F con 0, 0, più 1 che cosa ottengo? meno F3 F1 per 0 più F2 per 0 più F1 per 1 meno F3 quindi questo è uguale andiamo a parametrizzare questo è meno F3 dobbiamo adesso andare a parametrizzare questa superficie d'accordo? chi è la parametrizzazione di sigma 1? che a x più y a partenza di D asco x più y d'accordo? questo è il grafico della funzione di D su D uguale a H questa è una superficie cartesiana la sua parametrizzazione è x più y d'accordo? quindi questo è il cosiddetto l'interale W su D di meno F3 per x più y per cosa devo moltiplicarlo? chiamiamo questa superficie chiamiamola sigla b fa la 1 d'accordo? cosa devo moltiplicare? devo fare la rasa di sigma 1 rispetto a x la rasa di sigma 1 rispetto a y di sigma 1 e facciamo facciamo rispetto a x cosa viene? 1 0 3 l'arevata di sigma 1 rispetto a x cosa viene? 0 1 0 è uguale 0 0 1 d'accordo? quindi la sua norma è uguale allora quindi devo moltiplicare qui per 1 per definizione l'integrale sull'istituzione poi cosa devo fare? più l'integrale su sigma 2 allora su sigma 2 chi è il pressore normale esterno? 0 0 1 quindi quando faccio f scalare il pressore normale cosa ottengo? f3 f3 devo parametrizzare questa faccia chi è la parametrizzazione di questa faccia? x y k k cos'è la norma della rata di sigma 2 rispetto a x del prodotto elettorale della rata di sigma 2 rispetto a x cosa viene? sempre 1 guardate cos'è la rata di sigma 2 guardate cos'è la rata di sigma 2 proprio quello che ho scritto là sotto d'accordo? vedete? così la rata copiando gli altri termini con gli altri superfici così proseguendo così grazie adesso martedì voglio fare un po' di analisi complessa però giovedì no mercoledì faremo analisi complessa giovedì faremo esercizio di questa grazie e se ne manca pomeriggio potre essere par pomeriggio di questo grazie 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 grazie